La lettera Bruxelles la sta preparando Tria, Conte, insomma, con i nostri esperti economici che si stanno confrontando sulle cose da dire. Il presidente Mattarella ha detto, mi raccomando, solidità dei conti. Tria ha detto, saremo prudenti e Salvini dice, facciamo la flattacca. Noi siamo già stati molto prudenti nelle leggi di bilancio dell'anno scorso. Infatti avevamo detto che avevamo sovrastimato alcune misure per quanto riguarda i parametri di spesa. Nonostante la sovrastima, siamo stati nei parametri che ci ha dato Bruxelles quest'inverno. E il risparmio generato da queste misure sarà uno degli elementi che Tria porterà evidentemente a Bruxelles per dimostrare come i conti e l'aumento del deficit sia sotto controllo. Detto ciò, questo non significa, bisogna avere rispetto delle segnalazioni, del problema del debito e quant'altro, ma questo non significa che Bruxelles può dettare l'agenda politica del governo. Anche perché le cose che diceva Salvini adesso sono quelle di cui parliamo noi. Voi parlavate delle correnti. Nella Lega ci sono gli amminti di discussione. Loro hanno la direzione nazionale, noi abbiamo il Consiglio federale. L'abbiamo fatto proprio venerdì. E venerdì, oltre a parlare anche, lei parlava delle elezioni, insomma, di fare dei ragionamenti del sistema del governo, abbiamo discusso delle cose da fare e delle motivazioni che ci hanno portato a scegliere di volerlo portare avanti questo governo. E però tra le motivazioni c'è il fatto che bisogna abbassare le tasse. La flat tax, ma non solo. La questione dello sblocca cantieri che è già diventato legge, le misure contenute nel decreto crescita come il salva comuni che è passato l'altra sera, l'abbassamento delle tasse anche di questo appanone industriale. che sono soltante.